Acela New York ha presentato Aspire S13, questo notebook ultra sottile, diretto competitor, secondo loro dei MacBook di Apple, che però vuole riuscire a fare quello che fa questa azienda con un prezzo decisamente migliore. Infatti parliamo di un device che arriverà a 799 euro sul mercato italiano a partire da luglio, ovviamente nella sua configurazione base. È davvero molto leggero ed è davvero ovviamente molto sottile, è costruito in alluminio, ha una tastiera di dimensione importante, è un touchpad davvero molto grosso, lo schermo è touch con il full HD come risoluzione, quindi è un display di buona qualità con una buona densità di pixel ed è un dispositivo che pesa soltanto 1,42 kg, quindi davvero molto molto leggero e molto comodo da portare dietro. Ha una batteria peraltro di lunghissima durata, dovrebbe durare fino a 13 ore, ovviamente poi dipende in base all'utilizzo, e appunto ha processori Intel Core i a bordo, quindi dei processori con cui si riesce a lavorare senza troppi compromessi. Ovviamente altre specifiche tecniche come la RAM che arriva fino a 8 GB di RAM e gli SSD che arrivano fino a 512 GB cambiano molto le prestazioni della macchina e quindi la configurazione base potrebbe non essere tanto interessante, bisognerà vedere se magari un modello da 1000 euro, 1100 euro potrebbe essere davvero concorrenziale. Però è una macchina ben costruita, molto leggera e sembra essere sicuramente anche molto interessante. Vi ricordo il nostro approfondimento testuale, trovate il link in descrizione qua sotto, noi ci salutiamo e ci vediamo al prossimo video per Hidball.com, Andrea Ricci.